Un viaggio lungo praticamente per la sola andata due giorni per portare quintali di aiuti umanitari verso la Romania che sta accogliendo migliaia di profughi ucraini provenienti dalle zone di guerra. Partenza ieri mattina da Canosa, arrivo nella tarda serata di oggi dopo aver attraversato il mar Adriatico, la Grecia, la Bulgaria e la Romania a pochi chilometri dal fronte di guerra. L'associazione con la quale abbiamo preso contatti, l'Era Club, si trova ha come sede a Targoviste, è lì che sta accogliendo i profughi ucraini, nello specifico sta accogliendo donne e bambini e quindi è lì che stiamo portando i beni di prima necessità che abbiamo raccolto nei giorni passati a Canosa. Portiamo beni di prima necessità, alimenti, indumenti e soprattutto farmaci che ci sono stati richiesti. Un lungo viaggio che ha molteplici significati, come ci spiega Luisa, volontaria della misericordia, assieme a tanti enti del terzo settore di Canosa, a partire dalla confraternita Giallo Ciano, che sta aprendo un importante canale di missione nazionale proprio con la Romania. Ci sono anche altre associazioni che hanno contribuito, diciamo, in questa missione di pace, tra le quali la FIDAPA, il Rotary, il Rotaract e l'Associazione Apostescu di Trasporti e l'Ampana di Canosa e la Proloco di Canosa. Il fronte rumeno è uno di quelli meno battuti al momento dagli aiuti umanitari internazionali, un grande lavoro partito dalla Puglia con decine di volontari impegnati sia nella raccolta che nella catalogazione e in pacchettatura dà la paura del viaggio alla certezza, come ci spiega Luisa, che l'aiuto per chi sta soffrendo sia davvero essenziale. Beh, non ti nascondo che inizialmente c'era la paura, però poi c'è stato anche il conforto e il sostegno di quanti, diciamo, da Canosa hanno voluto sostenere questa missione di pace. Quindi nonostante siamo solamente noi a percorrere questi chilometri che ci portano lì, comunque sappiamo che c'è una popolazione intera che ci supporta, ecco, e quindi ci fa sentire orgogliosi di quello che stiamo facendo.